Cenerentola, Cenerentola, i piedini di Cenerentola e il matrimonio con il principe, i fratelli Grimm, questa fiaba ha fatto sognare una quantità infinita di fanciulle povere che tutte speravano di sposare il principe, ma il principe lo può sposare solo una povera girl che ha certi requisiti. Nella favola dei fratelli Grimm il requisito per sposare il principe era avere dei piedini, piedini corti, piedini corti. La conoscete la favola di Cenerentola dei fratelli Grimm? No, Cenerentola, che aveva una matrigna perché il suo papà, quando morì la prima moglie, si sposò di nuovo e con la seconda moglie fece altre due bimbe, per cui Cenerentola aveva due sorellastre e le due sorellastre spadroneggiavano, spadroneggiavano. Fatto sta che arrivò il giorno in cui il re organizzò un grande ballo al castello perché suo figlio, il principe, doveva trovare moglie e ci andarono anche le due sorellastre di Cenerentola e Cenerentola riuscì anch'essa ad andarci, anche se con molti sacrifici. Il principe ballò con le due sorellastre e ballò con Cenerentola e fu incantato da Cenerentola, però a una certa ora Cenerentola scappò via per tornare a casa dove faceva la serva alla matrigna e alle sorellastre. Il principe voleva conoscere chi era questa ragazza perché lui si era innamorato di questa gherla. Allora ci sono altri balli principeschi e in uno di questi balli principeschi, il principe ovviamente balla con Cenerentola, poi a una certa ora Cenerentola scappa via sempre per tornare a casa della matrigna e delle sorellastre per fare i servizi di casa, però scappando via, scappando via perde una scarpa, perde una scarpa e il principe prende la scarpa smarrita da Cenerentola e che cosa fa? La fa provare per ritrovare Cenerentola e la fa provare alle gherla di marito del regno. Ovviamente le prime che partecipano a questo scamottaggio del principe sono le sorellastre, le sorellastre, però la scarpa perduta da Cenerentola non può essere calzata dai piedi delle due sorellastre perché hanno dei grandi piedi e la scarpa è tanto piccola allora il principe intende vedere se riesce a calzarla Cenerentola e la scarpa va proprio a pennello a Cenerentola perché Cenerentola aveva dei piedi piccolini, piccolini per cui il principe dice ecco questa, 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 questa girl che si chiama Cenerentola è la sposa adatta per me perché solo lei è riuscita a calzare questa scarpa tanto piccola, tanto piccola perché è un piede piccolo, è morale della fiaba, la morale della fiaba la può spiegare solo Serafino Massoni perché Serafino Massoni è l'autore di questa opera storico-mitologica che spiega come è avvenuto il passaggio dal matriarcato al patriarcato in patriarcato si dà tanta importanza, tra le tante cose qua voglio stringere, si dà tanta importanza alle dimensioni del pene alle dimensioni del pene e per cui ci sono le dimensioni del pene però ci sono anche le dimensioni della vagina ci sono le dimensioni del pene e ci sono anche le dimensioni della vagina ci sono dei grandi beni e dei piccoli beni ci sono delle grandi vaccine e delle piccole vaccine per quanto riguarda le donne le ragazze, le ragazze migliori sono quelle che hanno una piccola vagina la vagina ce l'hanno piccola perché se una donna ha una vagina piccola guardate che la questione è patriarcale, che sia chiaro non è patriarcale, è patriarcale perché se una donna ha la vagina piccola, stretta sembra vergine, sembra sempre vergine sembra sempre vergine per cui un uomo quando vede una donna che ha i piedi piccoli o le mani piccole capisce che si tratta di una donna che ha la vagina piccola piccola, piccola per cui se la sposa pensa di avere con sé per tutta la vita una vergine ecco queste sono le considerazioni di Serafino Massoni sulla base di quanto è stato scritto in questa mia opera storico-mitologica che parla del passaggio dal matriarcato al patriarcato perché è il patriarcato che dà tanta importanza al fallo, al fallo al pene capito? ecco, certo nessuno mai a questo mondo ha dato una tale interpretazione alla fiaba di Cappuccetta rossa di Ceneretto la scritta dai fratelli Grimm ma si doveva aspettare che arrivasse Serafino Massoni per dare la giusta interpretazione ok, cari amici ecco, questa è l'interpretazione di Serafino Massoni se tale interpretazione non vi va bene informatemi nei vostri commenti, capito? e per cui ne riparleremo bene, bene cari amici a tutti, tanti cari saluti dalla stirpe del serpente